Queste erano le vecchie botteghe artigiane legate alla fabbrica che oggi è il Teatro Fonderie Limone. È una struttura della città di Moncalieri che è rimasta chiusa per qualche anno. Venite a vedere! Per me Bottega Limone è uno spazio di confronto e sostegno. Per me Bottega Limone è uno spazio di accoglienza e condivisione. Grazie a un concorso di idee abbiamo raccolto 22 realtà tra gruppi informali e associazioni che animeranno la bottega tra pochissimo. Ci serve ancora un piccolo passo per finire l'allestimento e offrire delle opportunità per tutti i cittadini. Grazie. 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 Grazie.